Amici 3B Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dall'immagine del satellite che ci mostra diversi sistemi nuvolosi sull'Europa centro-occidentale. Una perturbazione proprio in queste ore sta attraversando l'Italia, ma ne sono pronte altre, quindi nei prossimi giorni sarà un continuo via vai. In particolare, nelle prossime ore stanno soprattutto le regioni tirreniche a vedere non solo piogge temporali, ma anche forti venti di libeccio, mare di conseguenza molto mosso o agitato. E poi pioggia anche al nord, ma soprattutto sulle regioni di nord-est, al nord-ovest si sta facendo avanti anche qualche schiarita. Per ora il sud e il medio adriatico sono in attesa, ma in realtà nella giornata di domani arriveranno piogge anche lì. Quindi, per quanto riguarda questo mercoledì, piogge in arrivo sulle regioni meridionali, anche sotto forma di temporale. E ancora una volta il versante tirrenico continuerà a vedere degli acquazioni delle piogge accompagnato da forti venti di libeccio. A nord sarà una giornata variabile, ma con un'alternanza di nuvole schiarite. Avremo anche delle pause, anche se come vedete comunque la probabilità di pioggia resterà abbastanza alta. E poi, come vi dicevo, anche nelle giornate successive sarà un continuo via vai di perturbazioni. Quindi arriviamo fino al weekend con ancora questo tempo molto variabile. In particolare, però, per il fine settimana potremo avere una pausa al nord, mentre ancora molta variabilità al centro-sud. Ma anche settimana prossima la situazione, guardate, non cambia. Ancora bassa pressione sull'Europa occidentale, quindi ancora una volta vari sistemi nuvolosi punteranno verso il Mediterraneo e l'Italia. Con questo è tutto, ma per rimanere bene aggiornati, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.